Grazie Presidente, colgo l'occasione vista la partecipazione dei cittadini convenuti in aula con la richiesta, il sollecito per poter convenire alla consultazione referendaria così come richiesto nei mesi scorsi raccolte le 33.000 firme. Stiamo parlando di due contenuti che in realtà non si escludono, uno non esclude l'altro, nel senso che in ogni caso per poter andare verso quello che potrebbe essere uno degli esiti della consultazione referendaria e quindi andare in gara, per disegnare una gara per ATAC abbiamo già stimato come minimo un paio di anni, quindi non è che gli effetti di un eventuale esito di questo tipo rispetto a una consultazione referendaria risolverebbe quello che loro comunque prospettano come una delle soluzioni nell'immediato. Secondo, ovviamente l'istituto referendario è previsto dall'ordinamento statutario del Comune di Roma, come sapete l'abbiamo ulteriormente potenziato, quindi anzi ci fa molto piacere che ci sia una parte della cittadinanza che abbia questa esigenza di andare a interrogare la città su questa ipotesi. Vorremmo ricordare anche che comunque c'è stata un'altra consultazione che è stata quella alle urne per cui una maggioranza dei romani si è espressa verso uno dei contenuti che abbiamo portato in campagna elettorale che era quello appunto di mantenere ATAC pubblica. Il perché è sostanziato anche da un'altra battaglia vinta insieme a tutta una serie di realtà non solo romane ma nazionali relativamente a quello che è stato il referendum del 2011. Vorrei ricordare uno degli articoli che non riguardava esclusivamente l'acqua ma riguardava i servizi pubblici locali per cui abbiamo sempre detto, lo continuiamo a sostenere ancora oggi, che siamo totalmente contrari a fare in modo che ci sia comunque un lucro per i privati. Noi siamo convinti che la gestione da parte del pubblico in maniera efficiente di un'azienda riesca a garantire, debba garantire anche con quelle che sono le modalità gestionali tipiche di un'azienda privata, riesca a garantire sia un ottimo livello di servizio che sia appunto il contenimento, la garanzia dei costi e i livelli occupazionali. Quindi siamo ben felici di poter comunque comunicare che non c'è nulla di contrario rispetto alla richiesta da parte delle persone che sono venute in aula. Ci aspettiamo appunto che l'amministrazione persegua questa richiesta ma è tutt'altro rispetto a quello che stiamo andando a fare oggi con la prologa del servizio per cui vorremmo ricordare che senza questo strumento appunto di proga in via del tutto eccezionale, l'azienda così come appunto è già partita come operazione già a settembre scorso, l'azienda probabilmente oggi sarebbe già caduta e quindi il servizio magari interrotto, commissariato, con tutto quello che significa come impatto appunto rispetto a una delle esigenze essenziali della cittadinanza. Essenziali non tanto perché lo dice questa maggioranza o anche le opposizioni ma perché lo sabrisce la normativa vigente. Detto questo vorrei sottolineare alcuni aspetti che ha toccato in maniera diretta e anche marginale l'assessore e mi complimento anche per il lavoro che è stato svolto perché uno dei punti più importanti del lavoro che è stato svolto in questi mesi riguarda anche i rilievi che sono già arrivati rispetto a questo contenuto da parte della G-Com che come sapete a ottobre scorso aveva già comunque espresso delle riserve. Le riserve, come abbiamo già risposto anche in aula nell'ultima seduta, comunque si basavano su dei contenuti che erano lacunosi perché tranne il bilancio di ATAC dell'esercizio 2016 approvato finalmente a settembre scorso non c'era un granché, non c'era soprattutto, e vorrei ribadirlo, la chiusura del consolidato quindi tutto quello che finalmente da parte di Roma Capitale che è l'organismo madre rispetto a tutte le sue partecipate ha una volta per tutte definito quello che è la riconciliazione tra partite creditorie e debitorie questo è molto importante e lo sarà anche per chi come la G-Com vorrà andare a verificare i contenuti dei passaggi che sostanziano la necessità della proga perché appunto ci siamo detti, l'abbiamo detto più di una volta il consolidato non fa altro che confermare quello che abbiamo detto nei mesi precedenti esiste comunque un percorso di questa azienda che tra mille difficoltà, lo ripeto, questa amministrazione ha cercato di portare avanti ma che davanti all'evidenza dei fatti per cui sia appunto il rinnovo, visto che siamo stati interrotti sia rispetto alla sentenza di aprile che quella di agosto non dava immediatamente la certezza di un patrimonio negativo ma non dava neanche la certezza che questi eventi si potessero riverificare negli esercizi successivi e che quindi non ci fosse nessuna garanzia né per quanto riguarda l'offerta del servizio né per quanto riguarda ovviamente le quasi 12.000 famiglie che in qualche modo insomma hanno uno stipendio perché sono dei lavoratori a vario titolo in ATAC questo è molto importante da dire perché soprattutto per quello che riguarda il servizio che viene offerto alla cittadinanza non esiste alcuno strumento che è in grado in caso appunto di un effetto immediato da parte dei tribunali fallimentari non esiste nessuno strumento che è in grado di poter garantire la continuità del servizio di conseguenza la scelta di dover prorogare il servizio come uno degli elementi irrinunciabili per poter sostenere il piano finanziario a questo punto con un respiro che è stato dilatato a 4 anni proprio per poter essere il più possibile sostenibile per quello che riguarderà appunto la credibilità della possibilità da parte di ATAC di poter risarcire i propri creditori appunto è un'attività che in qualche maniera era indispensabile attraverso la proroga del contratto di servizio come detto anche ieri in commissione questo comunque non esclude la possibilità di poter ancora perfezionare il testo che è stato licenziato in giunta per cui come sapete già da ieri in commissione sono partite delle attività di confronto anche con le opposizioni e gli emendamenti che stiamo ultimando che verranno consegnati al termine della discussione generale sono stati elaborati proprio per andare a perfezionare e a rafforzare ancora di più il presupposto principale appunto di questo provvedimento cioè la sua necessarietà la sua indispensabilità per poter garantire il fatto che l'azienda abbia uno strumento concreto insieme al piano industriale per poter finalmente no poter delineare un percorso di risanamento vero in cui io ci tengo a precisarlo vorremmo che sia chiamata tutta la cittadinanza a partecipare quindi a rendere quanto più trasparente possibile ogni attività di risanamento che verrà portata avanti perché non ci fermiamo ovviamente con il piano concordatario dovrà essere secondo noi fondamentale il fatto che ogni attività sarà resa quanto più possibile trasparente anche per poter rispondere a chi ovviamente negli anni ha visto invece da parte di questa azienda un'attività molto oscura molto sospetta come sappiamo anche alcune situazioni sono finite e nei tribunali sono finite anche a sentenza di condanna questo non dovrà più succedere non dovrà più succedere sia perché appunto ci sarà un'amministrazione speriamo no? è il nostro culo molto più attento al controllare ma anche perché cercheremo di fare in modo che qualsiasi cittadino potrà controllare direttamente ogni passaggio e quindi ogni movimento finanziario che andrà a sostanziare questo percorso di risanamento nel frattempo si può comunque aggiungere anche tutto quello che riguarda i passi successivi che andranno fatti come sapete il piano comunque concordatario anche questo dovrà passare in aula e sarà completo di tutto il piano industriale chiedo conferma anche all'assessore rispetto agli step successivi nel senso non sarà soltanto la prova per caratterizzare comunque il corpo di documentazione che verrà portata ai tribunali ovviamente ci sarà anche il piano concordatario che conterrà all'interno sia il piano industriale che il sostegno finanziario quindi il piano finanziario con tutti i volumi che nei vari esercizi noi stiamo abbiamo cioè l'azienda ha cercato di in qualche maniera mettere nero su bianco anche questa è un'attività su cui spero ci sarà comunque noi come forza di maggioranza pretendiamo la massima trasparenza possibile quindi nella movimentazione di qualsiasi tipo di conto siamo ben felici da una parte che tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi a partire da maggio quando è uscito fuori il decreto attuativo da parte del Ministero per poter da parte scusate della Presidenza del Consiglio dei Ministri per poter legittimare comunque i criteri per poter definire quelli che devono essere i progetti che potevano essere finanziati così come sono stati finanziati nell'ultimo Cipe di dicembre siamo ben felici che questa attività da parte di questa amministrazione quindi tutti i progetti di manutenzione straordinaria per la maggior parte delle linee A e B per un totale se ricordo bene di 450 milioni siano andati in porto a questo si aggiunge un ulteriore corpo di circa 167 milioni che questa amministrazione si sta impegnando arriverà breve, già stata annunciata scusate la variazione di bilancio per poter andare ad acquistare sia nuove vetture quindi sia tram che nuovi bus tutte queste attività ovviamente vanno sì nella direzione del risanamento dell'azienda ma vanno soprattutto nella direzione di andare a offrire finalmente quel servizio che una capitale merita a questo contenuto va aggiunto un ulteriore sta per terminare la partecipazione che abbiamo pensato all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile dove possiamo già anticipare che i progetti che hanno ricevuto il maggiore gradimento da parte della cittadinanza quindi non solo i progetti quindi da concludere consigliere sì grazie presidente ho concluso non solo i progetti che sono stati presentati dai vari cittadini, i vari associazioni ma anche sappiamo università e quant'altro ma soprattutto i progetti che hanno ricevuto maggiore gradimento da parte della cittadinanza riguardano soprattutto le opere su ferro non che avessimo dubbi ma questo è un ulteriore elemento che andrà a rafforzare quello che è l'indirizzo di questa maggioranza per poter portare e quindi qualificare la mobilità sostenibile quella veramente alternativa alla mobilità privata nell'arco di tempo che ci auguriamo sarà il più breve possibile ma che come tutti possono immaginare non potrà essere inferiore a qualche anno andrà ovviamente a cambiare quello che è il volto di questa città e voglio ribadire e chiudo non solo dal punto di vista della mobilità perché molti di questi progetti andranno anche a riqualificare gli spazi urbani in cui si integrano parlo ovviamente soprattutto delle linee su tram ma anche magari delle nuove fermate delle linee metropolitane quindi questo primo intervento non so se ne farò altri comunque ringrazio tutti gli attori dell'amministrazione che hanno lavorato fino ad oggi per ottenere tutti questi risultati che tutti insieme stanno andando verso il cambiamento che la città a prescindere anche da noi 5 Stelle si augura da decenni grazie 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 grazie